14 incontri in altrettanti centri di aggregazione sociale Arettini, con al centro i temi della salute e della sicurezza sociale. Si tratta di un progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali, famiglie, scuole, politiche sanitarie, in collaborazione con il coordinamento dei Cassa. Il concetto è uno, i centri di aggregazione sociale sono un investimento dell'amministrazione. Arezzo ha 100.000 abitanti, gli iscritti sono 5.000, vogliamo arrivare anche agli altri 95.000, cioè far sì che ogni Cassa sia un punto di informazione e di aggregazione utile a tutti i cittadini di Arezzo. Perché queste due tematiche? Perché sono quelle emerse come più urgenti da parte dei presidenti. Noi abbiamo un coordinamento che è costituito dall'assessore e dai 23 presidenti dei Cassa e insieme abbiamo deciso che per questi primi mesi il punto fondamentale fosse informazioni sulla sanità e sulla sicurezza sociale. Niente toglie che nei prossimi mesi, esaurito questo primo ciclo, se ne apre un altro dove si possa parlare di educazione, di formazione, di ambiente, non lo so. Per ora abbiamo scelto questi e cominciamo con questi. È un po' come se il Comune si facesse in 22. Gli appuntamenti prenderanno avvio il prossimo 7 settembre con sana e corretta alimentazione al CAS di Battifolle. Gli incontri si svolgeranno in collaborazione con l'ASL e la polizia locale. Gli argomenti trattati saranno le patologie più comuni, quindi dalle malattie cardiovascolari al diabete, all'ostoporosi, quindi a tutte le malattie che riguardano l'apparato scheletrico. In più si parlerà di corretti stili di vita, quindi di sana e corretta alimentazione, si parlerà di attività fisica adattata, quindi tutto quello ciò che concerne il vivere sano e il vivere bene.